Sarà Olbia la prima tappa della visita di due giorni nell'isola del vice premier Matteo Salvini in programma il 22 e il 23 novembre. Il leader della Lega arriverà nel capoluogo galurese alle 16 di giovedì 22 per un incontro pubblico con la cittadinanza. Si sposterà poi a Nuoro. Il turisolano del ministro dell'interno proseguirà quindi a Tortoli per l'inaugurazione alle 21 della nuova sede della Lega Ogliastra. La serata finirà con una cena aperta al pubblico. Il giorno dopo, venerdì 23, Salvini parteciperà al 34esimo congresso del partito sardo d'azione nella sede del Pisdaz in Viale Regina Margherita Cagliari con i dirigenti del partito. Una visita particolarmente attesa per le indicazioni che potrebbero arrivare per la nomina del candidato per il centrodestra governatore dell'isola. A seguire pranzo aperto al pubblico. Il programma della visita in Sardegna è stato pubblicato nella pagina Facebook di Eugenio Zofili, deputato e commissario della Lega per la Sardegna.